Signora Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, segretario generale del BIE, presidente Squinzi, delegate e delegati, commissari, autorità, cari amici, si chiude oggi il secondo incontro internazionale dei partecipanti a Expo 2015 e sono orgoglioso come sindaco di Milano di poter dire che queste giornate si chiudono in un clima estremamente positivo e rassicurante per il successo della seconda esposizione universale che si svolgerà nella nostra città dopo quella del 1906. Un incontro che è stato, secondo me, anche il primo assaggio di quella che sarà per Milano, per l'Italia e per il mondo intero l'appuntamento del 2015. Il tema che abbiamo scelto per la nostra, e credo ormai anche la vostra, esposizione universale è diventato sempre di più un tema cruciale sul quale tutto il mondo vuole impegnarsi e deve confrontarsi. Avete avuto modo di scoprire i progressi fatti della costruzione del sito espositivo e i piani operativi per i prossimi mesi. Avete toccato con mano l'entusiasmo dei Paesi che già lavorano ai loro padiglioni e alla declinazione dei contenuti di Expo così importanti per il futuro del pianeta. Avete incontrato le donne e gli uomini che lavorano alla realizzazione del grande evento. Nuove conoscenze vi hanno permesso di mettere a confronto certezze e dubbi. E spero proprio che abbiate apprezzato il nostro sforzo di coniugare l'ambizione e la concretezza, i sogni e la realtà, le speranze e i progetti. Viviamo in tempi di emergenza alimentare acquita da rincaro delle materie prime agricole. Il mondo post-crisi ha il dovere di andare verso un'agricoltura sostenibile premessa indispensabile di un futuro sviluppo economico, sociale, culturale, nel nord come nel sud del paese, nel nord come nel sud del pianeta. Expo vuole essere una tappa importante di questo cammino obbligato e in quanto tale, come auspicato anche dalla FAO, sede di riferimento del dibattito sugli obiettivi di sviluppo del millennio. Fedele alla sua tradizione di città aperta e inclusiva, proiettata verso il futuro di Smart City, Milano è ora pronta per la corsa finale, col suo valore aggiunto di capitale economica e finanziaria del paese. Ma non sarà una corsa solitaria. Al nostro fianco abbiamo il Governo italiano e colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Monti e i suoi Ministri per quanto hanno fatto finora e per quanto faranno nei prossimi mesi per Expo 2015, grazie anche al prestigio internazionale che ha oggi il nostro Governo. In occasione del meeting dello scorso anno avevo preso l'impegno di lavorare a un grande patto. Un patto per garantire un rapporto costruttivo con le forze istituzionali, sociali ed economiche italiane e straniere affinché Expo sia un vero successo con il suo prezioso bagaglio di innovazione crescita, di riflessione proposte sui temi dell'alimentazione e dello sviluppo sostenibile. La risposta c'è stata. Quel patto lo stiamo onorando. I progressi compiuti in quest'ultimo anno ne sono una conferma. Expo 2015 sarà realmente un evento universale e un'opportunità per tutti. Milano vi saluta oggi con calore, nel segno di una rinnovata amicizia e, nei mesi che ci separano al 2015, è pronta ad accogliere ancora voi e quanti altri, spero tanti, vorranno essere con noi e tra di noi. Saranno mesi in cui il sito prenderà forma e sostanta. I padiglioni espositivi diventeranno realtà. Mesi di incontri, mesi di dibattiti e anche di nodi operativi da sciogliere. Da parte nostra vi assicuriamo, cari delegati, la massima collaborazione. Contiamo su di voi per portare nei vostri paesi il messaggio dei temi di Expo e l'invito fin d'ora a partecipare. Sarà anche l'occasione per scoprire Milano e l'Italia tutta. Mi auguro, signore delegate e signori delegati, che possiate tornare ai vostri paesi con un messaggio positivo sull'impegno che Milano ha messo e continuerà a mettere nella costruzione di un evento universale così importante. Il primo grande evento internazionale dopo la pesante crisi economica e purtroppo anche di valori che ha cambiato per sempre gli equilibri del mondo in cui viviamo. Io spero che a tutti voi sia capitato quello che è capitato a me e che continua a capitare a me, di vivere come una grande e ripetibile occasione quella che stiamo costruendo insieme. Da qualche tempo, ovunque vada, e non mi accade solo in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, incontro persone, associazioni, imprese, città che mi chiedono che cosa possono fare per avere un ruolo attivo, per aiutarci a mostrare al mondo la vera bellissima faccia dell'Italia, quell'Italia positiva, quell'Italia che vogliamo far scoprire a tutti. Non solo per il meraviglioso pezzo di mondo che porteremo qua nella nostra città, ma anche per il messaggio e le proposte concrete che da Milano potranno partire per progettare e costruire il futuro del nostro pianeta. Ci rivedremo e sono certo che saremo molti di più. Ci rivedremo l'anno prossimo in occasione del terzo meeting internazionale per SPO 2015. Credetemi, l'esposizione universale di Milano sarà il posto giusto dove essere nel 2015. Un grazie di cuore e un ravviderci a tutti.